Il tuo nome? Andrea Liberati L'età? 38 La tua prima esperienza in politica? 23 anni Sono stato un assistente in consiglio regionale dei gruppi consiglieri Titolo di studio? Laurea, Scienze Politiche Che lavoro facevi prima? Giornalista Il politico che proprio non puoi vedere? Io posso vedere tutti gli uomini Forse non posso tollerare il politico che stimola la pancia dell'elettore Un politico che invece stimi? Si tratta spesso di uomini politici deceduti Penso De Gasperi, penso oggi invece Barack Obama La canzone porta fortuna per queste elezioni? Essere umani dei Mengoni L'ultima telefonata politica fatta? Sicuramente oggi, ogni telefonata ormai ha una valenza politica Procedimenti penali a tuo carico? No, niente Il tuo punto di vista su nozze gay? Questo tema lo affrontiamo in maniera molto laica Quindi lo rimettiamo, come il Movimento 5 Stelle, alla scelta della nostra base Legalizzazione delle droghe leggere? E' un tema di cui si può discutere, ma con tutte le informazioni scientifiche a portata di mano Euro? No Prostituzione? Non sono favorevole all'attuale assetto Quindi, sì, legalizzazione Perché hai deciso di candidarti alla Presidenza della Regione Umbria? Perché volevo dare un contributo per la mia Regione, essendo questa la mia terra Il tuo programma elettorale in tre punti? Reddito di cittadinanza regionale Riduzione sensibile o eliminazione dell'IRAP per quanto riguarda le piccole e medie imprese Severo aumento dei canoni concessori per le multinazionali dell'acqua minerale e dell'idroelettrico La tua idea di università? Libera da interessi privati, in particolare Da influenze private E di alta ricerca Cosa faresti per attirare gli studenti e invogli a venire a studiare a Perugia e a Perni? Farei in modo che la Regione compartecipasse a livello finanziario per quanto riguarda le quote annuali di pagamento Quindi aiutasse concretamente ad immatricolare studenti universitari La tua idea per risolvere il problema dell'immigrazione? A livello legale direi le quote sulla base della situazione economica, del livello economico dei singoli paesi interessati E' chiaro che l'Italia non può più accogliere, almeno in questo momento storico, immigrati Giovani e lavoro Tre azioni per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro Reddito di cittadinanza regionale, reddito di cittadinanza regionale, reddito di cittadinanza regionale L'unico modo per dare ai giovani un lavoro serio, che non sia sfruttamento, che non sia azione demagogica E' quello di costruire una cifra morale diversa nel mondo del lavoro Le prime tre leggi che faresti appena insediato a Palazzo Donini Torniamo sui temi precedenti, cioè appunto la legge sulla di cittadinanza Un, ripeto, severo incremento di canoni concessori per le multinazionali E quindi direi soprattutto una legge sulla full disclosure dei conflitti di interesse di politici e personaggi pubblici Personalità pubbliche che si trovano nelle amministrazioni, in particolare nel mondo della sanità In un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, che tagli faresti? Ci sono ampi spazi, specialmente se noi riusciamo a trovare un unico centro di spesa E riusciamo a liberare le amministrazioni pubbliche dalla corruzione che purtroppo la infestano a partire dalla nomenclatura La tua idea per rilanciare l'Umbria in Europa? Noi dobbiamo cercare di vivificare quello che c'era prima, l'artigianato, il piccolo commercio Quindi tornare indietro per fare un passo avanti e presentarci con un'identità forte e originaria e ripetibile anche in Europa A proposito di Europa, sei mai stato a Bruxelles? No, mai a Bruxelles Quali sono i tuoi rapporti con le istituzioni europee? Con la regione dell'Umbria dopo il 31 maggio ho sicuramente completato l'intera filiera Da Bruxelles a Roma, a Perugia, ai tanti comuni Ai sette avversari politici, quali temi di più? Non temo nessuno di loro, io temo soltanto le bugie, le menzogne che vengono propalate a ogni piesso spinto E che sono la cifra anche di questa campagna elettorale Se noi pensiamo alle tante vicende, verità mai disvelate sull'intreccio tra politica affari Su la melassa tra PD e ex PDL, quindi tra sinistra e destra, tra governo e sotto governo Dal fatto di aver spartito di fatto l'Umbria e lottizzata Ecco, se noi pensiamo a questo, pensiamo a quale grande bugia A una grande bugia nella quale siamo immersi e da cui dobbiamo cercare di rialzarci E ora le domande dei nostri fan Hai accusato alcuni politici e magistrati di andare a cena insieme Ci spieghi meglio? Ho parlato più puntualmente di capi delle procure Di un capo della procura almeno Che è andato a cena con politici subiudici Cioè sotto processo della stessa procura Quindi perché, come posso dire, la cerchia è molto stretta Quella persona faccia un passo avanti perché noi abbiamo, come dire, già testimoni Ancorché non rivesta un carattere penale Cosa che ci riserviamo di approfondire Certamente questo episodio rivela una stortura morale Che noi ci impegniamo a correggere Senza alcun timore Reddito di cittadinanza in Umbria Dove troverete i soldi? Devo dire che i soldi è facile trovarli laddove non sono stati mai richiesti Mentre artigiani e commercianti subiscono equitalia Ci sono alcuni multinazionali che portano all'estero Come è accaduto negli ultimi dieci anni Quelle delle acque minerali e quelle dello sfruttamento idroelettrico Quasi un miliardo di euro in dieci anni hanno portato a casa loro Cento milioni sono la parte del bilancio libera Usualmente utilizzata a marchettificio Dall'altra parte 46 milioni, 50 Sono fruibili, ottenibili Attraverso una riduzione, un contenimento Del bilancio di circa del 2% La vostra battaglia a Perugia come a Foligno Contro comitati elettorali e manifesti politici abusivi Sì, è una illegalità che si ripete ad ogni competizione elettorale Da parte di partiti, di soggetti politici Che evidentemente con la legalità e col senso dello Stato E con le regole hanno poco a che fare Qualcuno però lamenta una mancanza di democrazia all'interno del movimento Io rispondo invitando ogni volta che viene evocata questa presunta assenza di democrazia Chiedendo a queste persone di partecipare ai nostri meet up Ai nostri incontri Che sono in realtà la culla della democrazia È chiaro che esistono delle regole in ogni organizzazione E chi queste regole non vuole rispettare è chiamato a tirarsi fuori Il tuo appello al voto Hai 20 secondi per convincere i giovani a votare per il Movimento 5 Stelle Dunque, ho la presunzione di ritenere che i giovani votino già in massa il Movimento 5 Stelle E fanno bene Perché è l'unica speranza È l'unica speranza in un'Italia che è stata davvero annichilita dai partiti tradizionali Ecco, quindi l'appello ai giovani è quello di continuare a credere A crederci Di esserci vicini Di frequentare in sempre maggior forza i nostri meet up, i nostri circoli Perché è un bel momento di confronto democratico e di crescita per se stessi e per gli altri Un messaggio o una domanda da rivolgere a qualcuno degli altri candidati A Cadiuscia Marini, anzitutto, quando rinuncerai alle tue turbopensioni? L'altro, però, voglio farlo anche a Claudio Ricci, è di cambiare le pile Di fare qualcosa, di dire una parola Di pronunciarsi su questo regime che dura da 45 anni È il primo giugno Ti svegli e non sei stato eletto presidente della regione Che fai? Il nostro impegno sarà a vantaggio degli Umbri Quale che sia l'esito, noi aspettiamo a governare Ma in ogni caso cambieremo l'Umbria Quindi chi crede di aver vinto Sappia che sarà una vittoria di Pirro Perché siamo in grado di svelare scenari In grado di capovolgere finalmente le vicende di un'Umbria ingessata Dentro una questione morale che non è stata mai affrontata Radiofonica.com